amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video purtroppo a comunicare un gravissimo lutto per la serie a per il calcio italiano in generale per tutto lo sport italiano a soli 19 anni è scomparso daniel guerini giovane promessa della primavera della lazio morto in un incidente sulla via palmiro togliatti a roma il secondo gale di marco liguori vale più sentite condolianze alla famiglia di daniel e alla lazio calcio grazie a tutti